Siamo qui alla Rotonda della Brissana, guardate che posto meraviglioso, siamo a Milano, la Rotonda della Brissana è veramente un luogo incantevole. Siamo venuti perché un'amica ci ha invitato all'inaugurazione di questa mostra di Safetizek, un pittore bosniaco che non conosciamo ma abbiamo visto le foto e sembrano veramente dei quadri entusiasmanti, per cui siamo assolutamente venuti qua a vederle. Ecco qua la Rotonda della Brissana, guardate che carina. Ok, entriamo, andiamo a vedere la mostra di Safetizek. Diamo un'occhiata intorno, siamo al Vernissage, come si dice, all'inaugurazione della mostra, ma inaugurazione si dice per una macelleria, un negozio, e siamo al Vernissage, signori, guardate qua. Grazie a tutti. Andando a vedere i quadri da vicino, si scopre che sono tutti fatti su carta da quotidiano, guardate, questa è il reto di un quadro, proprio un vero quotidiano. E qui guardate questi particolari riprese di queste gigantesche opere, e qui si va a vedere da vicino, carta da quotidiano. Così come sempre andando a vedere da vicino, si scoprono tanti particolari dei giochi all'interno dei quadri, come questo, o come questo. E qui guardate qui guardate, come questo. Grazie. Queste tavole qui. Come? L'ha fatta anche un'altra cosa. Cioè? Queste tavole. L'ha fatta anche un'altra cosa. Quasi così non si vede. Questo. Anche i cucchiai. C'è stato un'altra cosa. Quasi... Quasi c'èICA. Chau. Lightspech-BMAS. Loi ciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.